Lea ha un fisico perfetto! O no? Wow! Stiamo vicini vicini! Come sbarazzarsi del peso extra dei dolci? Non andrà lontano così! È molto semplice! Lea dovrebbe chiamare i super broccoli in aiuto! Nick aspettava il momento di uno spuntino! Ma non è così semplice! Deve fare una scelta difficile! Quale barretta ha il sapore migliore? Quella a destra o quella a sinistra? Sono entrambe irresistibili! Ehi, cos'è successo qui? Dei veri professionisti delle ciambelle stanno indagando! Nessun indizio passerà inosservato! Eccola! La criminale! No, no! Quello no! Beh, perché? Olivia non ha idea di come abbia influenzato le indagini! Un triste scherzo del destino! Eli sta per fare uno spuntino con una banana! Che frutto inflessibile! Una divertente performance acrobatica! Qualcuno si sente delizioso! Qualcuno si vergogna! Ci sono momenti in cui gli snack ti impediscono di entrare nel vestito! Patatine saporite! Un vestito lussuoso! Questo è il problema! Betty ha fatto la sua scelta! Ebbene, la bellezza richiede sacrificio atletico! Quindi è all'opera! La vera regina del tapirulano! Alcuni squat con manubri! E guarda che viso! I chili in più si sono letteralmente sciolti! Che incontro! Tutti i problemi con il guardaroba appartengono al passato! Pensa! Un paio di patatine non rovineranno il tuo nuovo fisico! Ma non lo renderanno migliore! Mastica allegramente! Non rimpiangere nulla! Ma è un peccato quando uno bello show tra amici viene improvvisamente interrotto! Non interrompere! Amici miei! Che dire! Sembra che Ross abbia un'idea brillante! Un KitKat può risolvere i più grandi problemi! Ottimo! Ha trovato una via d'uscita! Qualche scherzo innocente? Così va meglio! Che lo spettacolo inizi! Una cascata di popcorn e una fontana di Coca-Cola! Prima di gustare un succoso kiwi è meglio pelarlo! Olivia non se ne è dimenticata! La procedura è noiosa e spiacevole! Ma obbligatoria! Qui non sembra complicato! Oh no! Beh, l'azienda frutticola non è pronta per tali sacrifici! Prendimi se ci riesci! Betty chiaramente non è una fan delle patatine all'aglio! Cos'è questa puzza disgustosa? Finalmente Bob ha capito! Il chewing gum saporito è un buon modo per sbarazzarsi delle tracce di briciole! Ecco fatto! Aggressivo e senza pietà! Sì, sì! Certo che Betty ne vuole una! Un piccolo esperimento gonfiabile! Che peccato! Tutto si è concluso con un fallimento appiccicoso! Purtroppo! Questo cupcake azzurro ha conquistato Kevin! Ma certo! È un meraviglioso pezzo di arte dolciaria! E se quello viola fosse più gustoso? Può essere! Ops! I golosi sono stati fregati dalle mani di burro! Ma non tutto è perduto! Il cupcake rosa è un rimedio efficace contro lo stress! L'importante è non lasciarlo cadere! Monica adora le Skittles! Ma le Skittles non vogliono essere mangiate! Per prendere questa caramella dovrà lavorare sodo! Non può prenderla a mani nude! Che combattente disperata! Ma anche l'affamata e determinata Monica è esperta di tecniche speciali! Bene! Questa è la fine che fanno le Skittles! I veri eroi del fronte delle caramelle! Avranno molto di cui parlare! Bob deve affrontare un compito difficile! Interessante! Chi vincerà questa sfida? Una battaglia per la vita o la morte? Cresce l'intensità della passione! Sì! Un brillante spettacolo cavalleresco! Ecco la vincitrice! Questo non ce l'aspettavamo! Tra i due litiganti il terzo gode! Eli ha un appuntamento con il suo sushi preferito! Tutto è al massimo livello! Un fantastico gioco di sapori e leggeri bagni di salsa di soia! Questa è una performance gastronomica davvero originale! Una deliziosa limonata è un ottimo modo per rinfrescarsi! Ma per raggiungere l'obiettivo è necessario impegnarsi molto! Il limone pugile è una novità! Qualche altra mossa atletica e... Voila! La cara bevanda al limone è quasi pronta! Una vera cura per la sete! Uffa! È aspra! Forse dovrei aggiungere un paio di cucchiai di zucchero! L'allenamento all'aria aperta è garanzia di buona salute! Oh, che lancio! La povera Eli è malapena e cosciente! Il football è sempre un gioco da capogiro! L'atleta infortunata ha bisogno di una dose di dolce! Wow! Che trasformazione inaspettata! Il viaggio intorno al mondo è iniziato! Che bellezza! Oh! E qui ci sono i souvenir di ricordo! Il sogno di ogni viaggiatore! Nick ha dei progetti seri per le patatine fritte! Ma manca qualcosa! Un po' di ketchup piccante! È divino! Smettere di mangiare è impossibile! Versa! Non te ne pentirai! È impossibile rinunciare a questo gusto! Se vuoi che una cosa sia fatta bene, falla da te! Wow! Becky è la regina dei succhi! Ma ecco un piccolo ma! La delizia all'arancia è minacciata! E quindi? Una strana manovra! E adesso è tutto al suo posto! Beh, quasi! Bob adora i popcorn leggeri e saporiti! E a quanto pare questa simpatia è reciproca! È l'ora del riposino! Ma i rapporti con il cibo possono essere imprevedibili! E ossessivi! Con la compagnia di questi popcorn, l'insonnia è assicurata! Bob desidera solo la pace! È difficile per lui controllarsi mentre guarda un film dell'orrore! Le emozioni di tanto in tanto salgono alle stelle! Questi rumori spaventosi farebbero impazzire chiunque! Forse è meglio affrontare la paura! Una mossa audace! Ed ecco il terribile mostro! Ellie sta aspettando un pranzo abbondante! I noodles alle verdure hanno un aspetto elegante! Carini! Non è vero? Il cocktail cremoso perfetto con un'aggiunta di fragole! Un sogno! Ma perché questo accessorio extra? Ecco di cosa ha veramente bisogno! La doccia allo sciroppo è iniziata all'improvviso! Tuttavia, non ci sono lamentelle sul gusto! Le ha un compito importante! Imparare a baciare! Come potrebbe farlo senza un pomodoro? Cos'è questa audacia senza precedenti? L'aglio maleducato non ha mai imparato a comunicare! E a quanto pare non imparerà mai! Che peccato! Pomodoro! Alla prossima!